Grazie a tutti. Siamo contenti insomma anche della sua presenza perché rappresenta l'Irsifar, l'Istituto Romano per la Storia d'Italia e il Fascismo e la Resistenza e l'Irsifar tra l'altro è collegato anche in diretta Facebook con questo convegno come molte altre realtà romane e non solo, abbiamo citato prima il Museo di Vetasso, il Circo Gianni Bosio, l'Associazione Altramente, il Laboratorio Stalker, l'Osservatorio Nomade, il Servizio Comunicazione del CNR, una serie di realtà che stanno seguendo dalla tua pagina questa diretta, il che ci fa ovviamente molto piacere. Iniziamo quindi l'ultima sessione pomeriggiana e lascio la parola a Anna Bazzaro. Grazie Anna, ciao. Grazie a voi, io volevo appunto ringraziare tutti gli organizzatori e i relatori per questa iniziativa veramente importante e ricca che attraversa così tanti anni della storia di Roma. Volevo ricollegarmi un pochino a quello che è stato detto nella sessione precedente da Lidia Piccioni, che appunto ci ha fatto vedere come Roma negli anni del fascismo c'era questo ingrandimento della città che spiccava, ma che non era in contrasto con quello che avveniva in altre città, lei ha parlato della grande Milano, della grande Genova e così via. Se pensiamo agli anni della guerra invece la cosa che colpisce è che in genere le città colpite dai bombardamenti, dalla realtà della guerra, le grandi città si svuotano a vantaggio dei territori circostanti. E questo a Roma non succede, Roma continua ad essere fino al primo bombardamento del 19 luglio del 43, viene considerata ancora una città sicura, quindi una città dove vengono anche dagli altri territori, questo poi sarà particolarmente vero dopo il bombardamento di Civitavecchia di maggio del 43. Quindi questa città è proprio una città di immigrati, come recita il titolo dell'intervento di Alessandra Gissi. Alessandra Gissi che è la prima relatrice di quest'ultima sessione del pomeriggio e che insegna storia contemporanea presso l'Università Orientale di Napoli e si è occupata particolarmente di storia dei corpi e della riproduzione, tanto è vero, cito il suo volume, Le segrete manovre delle donne sulle elevatrici e si è occupata anche di migrazioni. La fonte che lei sceglie per parlarci di migrazioni appunto in questa Roma, città di immigrati, è un romanzo, anzi il romanzo secondo me di Roma in guerra, appunto la storia di Elsa Morante. Alessandra Gissi. Prego. Ok, dovrei, ci sono? Sì, sì, mi sentiamo bene. Molte grazie Anna della presentazione e prima di ogni altra cosa grazie all'ISME, dalle biblioteche di Roma e agli organizzatori. Sì, sia per il loro lavoro, ma per essere stati così straordinariamente tenaci, è una cosa che aiuta molto in questa fase. Serve, è utile, ma aiuta anche emotivamente. Dunque, cercherò di trattare una fonte che per sua stessa natura, soltanto perché è un libro lungo, 600 pagine, implicherebbe un intervento, diciamo, più lungo, che io taglierò in ogni modo, a partire dalla trama, che in realtà servirebbe. Tuttavia non la racconterò, un po' mi affiderò al fatto che è un romanzo così tanto noto e così tanto letto, che forse non ce n'è bisogno, e da un altro invece lo faccio anche per non privare chi non lo avesse ancora letto delle incognite della narrazione. Quello che espongo è soltanto una traccia di alcune riflessioni che sono inerenti ai mondi simbolici che si aprono dentro lo spazio di una rappresentazione e di una narrazione, in questo caso proprio il romanzo di La storia di Elza Morante, definito in modo spregiativo, poi su questo tornerò romanzone, in modo molto appunto spregiativo, poi dirò da chi e perché, ma in realtà la trama di queste riflessioni è legata al romanzo, ma anche e soprattutto a quello che posso soltanto definire l'indotto che il romanzo ha creato. Che cos'è quest'indotto? È una lunga ed eccezionale vicenda critica, eccezionale nel senso che poche volte si è ripetuta, forse mai, che seguì la pubblicazione della storia di Elza Morante, che oggi è una vicenda critica che oggi è raccolta in un volume uscito da poco per Quadlibet a cura di Angela Borghesi, per darvi la misura, la dimensione di questa vicenda critica dirò soltanto che il libro di Borghesi è circa mille pagine. E dunque molte delle mie riflessioni vengono anche da questo straordinario dibattito, che è un dibattito che si sviluppa fra l'uscita del romanzo e l'anno successivo, quindi molto concentrato e molto intenso, che racconta molte cose, è un dibattito incredibilmente interessante. Io ne traggo diciamo proprio qualcuna in questa sede. E l'altra cosa importante è che non soltanto bisogna prendere in esame i meccanismi argomentativi, contenuti, diciamo la morfologia tanto della narrazione del romanzo quanto delle argomentazioni della critica, ma anche in questo caso andrebbe in modo più approfondito preso in considerazione la circolazione, la ricezione e le pratiche di consumo del romanzo stesso. Perché dico questo? Perché nell'eccezionalità del romanzo di Morante c'è anche una straordinaria diffusione. Allora il romanzo esce nel 74 per volere di Alza Morante dell'autrice direttamente nella collana negli struzzi in versione economica, quindi con un prezzo subito molto ridotto, cioè quello del prezzo di 2000 lire, ed è appunto una decisione riconducibile alla volontà dell'autrice, perché il libro deve essere nelle intenzioni alla portata di tutti. Il romanzo, d'altra parte, si apre con una citazione del Vangelo di Luca 10-21, che dice hai nascosto queste cose ai dotti e ai savi e le hai rivelate ai piccoli, e una frase che dice all'analfabeta per cui scrivo. Il romanzo di Roma e di Roma in guerra, che è un romanzo lungo, sono appunto più di 650 pagine, nonostante questa lunghezza ha una prima tiratura di 100.000 copie, dopo sei mesi le copie vendute sono sei volte tanto, il romanzo arriva un anno dall'uscita a una vendita esorbitante, che è quella di un milione di copie. Questo è un aspetto piuttosto importante in tutta la vicenda, forse si capirà meglio piano piano mentre vado avanti. Vale forse qui subito la pena nominare, enunciare cosa scrive sulla storia di Alzamorante in questo anno scrivono tutti, tutti quelli che vi possono venire in mente. e le critiche sono in alcuni casi favorevoli, ma in altri non solo sono sfavorevoli, ma sono anche molto violente e proprio molto ostili, oltre che al prodotto sono proprio ostili nei confronti dell'autrice. Uno dei tanti che Pasolini lo criticherà, lo criticherà in modo negativo, sarà la fine di un'amicizia, ma insomma questo non ci interessa. Una cosa che forse vale la pena anticipare è quello che scrive Goffredo Fofi rispetto appunto al successo di questo romanzo, che in fondo parla di una città e di una città in guerra e degli attori di questa guerra, sulla parola attori e attrici tornerò, Fofi dice che se oggi questo romanzo è stato letto o viene letto da operai, studenti, soldati, carcerati, casalinghe delle città e delle province e non solo dalle signore, vuol dire che questo romanzo ha qualcosa da dire a tutta questa gente. Allora, senza entrare nella trama, quello che l'ha già detto Anna Balzaro presentandomi, la storia è il romanzo di una città, cioè di Roma, è il romanzo di Roma in guerra, ma soprattutto io direi che è il romanzo di una città non dei suoi abitanti, ma di chi la attraversa. Questo è un aspetto a mio parere piuttosto importante, perché dire come spesso si fa appunto di una città e dei suoi abitanti sottintende, come possiamo dire, un ordine e anche una stabilità. Mentre questo romanzo è un romanzo di attraversamenti, cioè è un romanzo di mobilità per entrare nel vivo dell'argomento di questa bella giornata. Ora io, diciamo, proprio perché non posso raccontare la trama della storia, ho tirato fuori alcuni proprio piccolissimi estratti minuscoli di chi attraversa Roma durante la guerra. La storia non ha un protagonista, questa è una cosa che molti noteranno, Natalia Ginzburg, ma adesso su questo non mi posso soffermare. Allora, qualche piccolo estratto. Forse la protagonista, una delle, sicuramente, delle presenze più importanti è Ida. Ida era nata nel 1903, non aveva fratelli né sorelle, i suoi genitori insegnavano tutti e due nella stessa scuola elementare di Cosenza, scrive Elsa Morant, dove si erano incontrati la prima volta. Il padre, Giuseppe Ramundo, era di famiglia contadina dell'estremo sud calabrese e la madre, di nome Nora Almaggia, una padovana di famiglia piccolo-borghese, bottegaia, era prodata a Cosenza, ragazza di 30 anni e sola, in seguito a un concorso magistrale. Il marito di Ida è Alfio. Alfio morirà, Ida rimane vedova. Alfio è un messinese, morirà in guerra. Alfio è un messinese, il viaggio di nozze della coppia, salvo una sosta a Napoli di un paio d'ore, consiste nell'andata a Roma, nuova residenza degli sposi, dove Gialfio da solo aveva preparato il loro alloggio economico di due stanze nel quartiere di San Lorenzo. Ida viene stuprata, adesso questo è l'avvio del romanzo, quindi non rivelo da un soldato tedesco che attraversa le strade di San Lorenzo prima di partire per l'Africa. Quando Ida deve dare alla luce un bambino segretamente, il bambino frutto dello stupro, cerca una levatrice dove andarsi a rifugiare, cosa che poi farà, la trova nei suoi attraversamenti cittadini al ghetto. Leggo da morante, si chiamava lei pure Ida, la levatrice, di cognome di capo, abitava nei pressi della basilica di San Giovanni, era un ebrea napoletano. Quando Ida si avvia dopo il bombardamento verso Pietralata, perché ha saputo da un cantiniere che c'è un edificio dove gli sfollati possono andare a ripararsi, conosce, incontra sulla via Cucchiarelli-Giuseppe. Cucchiarelli-Giuseppe, falce e martello, così si presenta. La prima cosa che Cucchiarelli-Giuseppe, che è artigiano del marmo, chiede a Ida, è signostia dei romana, a Pietralata, dove si svolge una buona parte, una parte molto significativa del romanzo, fra gli abitanti fissi del ricovero, leggo, c'era una sola famiglia, mezza romana e mezza napoletana, è così numerosa da lei sola che Cucchiarelli-Giuseppe la soprannominava I-Mille. I componenti napoletani di questa famiglia, rimasti senza tetto nella primavera di quell'anno, in seguito ai bombardamenti di Napoli, erano venuti a rifugiarsi presso i loro parenti di Roma, ma anche qui erano rimasti senza tetto, insieme ai loro parenti ospitali, in seguito al bombardamento di Luglio. Noi si vantavano, siamo un obiettivo militare. Tra l'altro qui io non farò accenni alle cose così ben dette prima di me, ai riferimenti al fatto che Roma straordinariamente non si svuota durante la guerra, ma acquisisce presenze e su questo non torno, perché ne torno su quelle cose che sono appunto state dette finora, cioè Roma è una città di immigrati. E la storia è un romanzo di persone che si muovono, che si sono mosse, che si muovono. Quando Ida si sposta di nuovo nella Roma di guerra e andrà al Testaccio, in via Mastro Giorgio, leggo, gli appigionanti di Ida di nome Marrocco erano nativi della Ciociaria. Venivano dal piccolo villaggio di Sant'Agata e solo da qualche anno avevano lasciato la loro casupola di Montanari e le loro piantagioni di limo per trasferirsi a Roma. La moglie Filomena lavorava in casa da sarta, camicia e rammennatrice che il marito Tommaso era portantino negli ospedali. Non vi racconto della prostituta Santina e del suo andare in paese ogni tanto anche come scusa, il che vuol dire che andare al paese, a Roma, è comunque una scusa plausibile, perché cerco di avviarmi verso le mie considerazioni. E però aggiungo, prima di farlo, un passaggio che ho trovato in un lavoro di Monica Zanardo che si chiama Il poeta e la grazia, una lettura dei manoscritti della storia, cioè i manoscritti preparatori al romanzo di Elsa Morante. È un passaggio che la stessa Elsa Morante stralcerà. Dalla versione definitiva lo accorcio moltissimo. è relativa a un colpo di fortuna di Ida quando vive dai Marrocco a Testaccio e cioè una volta trova a basso prezzo delle anguille che mette sotto l'acquaio in un secchio, dietro la pattumiera un po' nascoste e queste anguille che restano lì le suscitano molti pensieri e soprattutto i pensieri delle loro migrazioni. Dal Mar dei Sargassi ritorno, viaggiando per distanze esterminate, ecco il destino, pensò Ida, dal Mar dei Sargassi sono finite in questa cucina nostra. Allora le venne fatto ripensare alla sua propria vita e casi e migrazioni. Dunque, in realtà diciamo quindi Roma è la Roma in guerra è una città di migranti ma nel senso che è una città di attori sociali e attrici sociali che si spostano in questa... che sono arrivati a un certo punto e che dentro la città si muovono. Ora, questa mobilità appunto mi ha suggerito tre questioni che dirò in modo molto sintetico e forse anche un po' grossolano ma appunto non voglio essere breve ma prima dirò un'altra cosa che ha scritto Cesare Garboli sulla storia. Dunque, una cosa che va detta è che i meccanismi della memoria che la storia attiva soprattutto quelli della cosiddetta memoria collettiva sono piuttosto interessanti perché sono in realtà molto dialettici. Il racconto di avvenimenti in fondo minuti è dentro la cornice della storia perché tutti i capitoli si aprono con una cronologia precisa degli avvenimenti mondiali. A quel punto, poi dopo, c'è la narrazione e il cosiddetto passaggio di scala. Garboli ha scritto, ha sottolineato l'effetto simultaneo di rimpicciolimento e di ingrandimento che subisce l'azione del romanzo che torna continuamente su se stessa sempre interrotta e sempre ripresa sullo sfondo di un vastissimo scenario lontano, dice Garboli. La guerra impegna tutte le forze del mondo ma la narrazione sta in una topografia ristretta limitatissima sempre la stessa Quartieri poveri di Roma San Lorenzo Il Ghetto Testaccio Via Leostienze Porta Portese Ora, io su questa invece su questa idea di topografia ristretta farei forse qualche invece riflessione ulteriore e anche bisognerebbe farla sul fatto che tutti notano l'insistenza sugli alberi genealogici che Morante fa Ora, questi alberi genealogici tutto si è notato tranne che sono alberi genealogici quasi sempre di persone che si appunto hanno una storia di migrazione Non è mai stato notato abbastanza appunto come tutto questo stia dentro un quadro di vicende di mobilità Ora, questo appunto mi porta a tre questioni che dirò molto brevemente se avremo altre occasioni anche in futuro di tornarci sarà per me un piacere Allora, la prima questione è proprio il rapporto fra il micro e il macro Il mio sguardo sul romanzo e sulla vicenda della 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 vicenda della critica è uno sguardo ovviamente da storica mi interessa quello e diciamo la storia che si è occupata di migrazioni Questo rapporto tra micro e macro è molto interessante se è visto dal punto di vista della mobilità Allora, prima di tutto mi sollecita il fatto che la mobilità sia così poco vista in questo romanzo anche perché è una delle caratteristiche comuni della maggior parte dei protagonisti che appunto sono molti ed è tra l'altro una cosa interessante che è una mobilità in qualche modo fatta di forme interconnesse come oggi finalmente la intende la storia delle migrazioni cioè migrazioni di corto medio lungo raggio ma anche di percorsi e strategie messi in atto per servirsi della città non solo per permearla ma anche per servirsene ma è anche una mobilità in cui è chiara la questione dei network della rete di relazioni che sostengono o non sostengono questa permeabilità adesso non posso tornare alla trama ma Alfio il marito di Ida è quello che le trova un posto da maestra lei ha il diploma magistrale attraverso una sua conoscenza al ministero in realtà come posso dire la vicenda di Ida lontana da come è stata letta da quasi tutti è in realtà la vicenda di una povertà di rete di relazione dentro le quali però questa povertà cioè pur dentro questa povertà queste poche reti vengono comunque fatte funzionare sì sì ho finito e tra l'altro appunto la questione indicata proprio nello studio non solo da Grano Vettere in studi generali ma proprio su Roma il modo di permeare di attraversare la città dagli studi di Ramella non su Roma in modo specifico oppure come quelli su Roma di Canepari di Domenico Rizzo di Angelo Di Narro la seconda questione ma ho davvero chiuso è che è molto interessante notare come questa come sia del tutto assente la capacità di leggere questa mobilità come agency la grande critica che sono fatte a Morante e alla storia adesso appunto questa è una vicenda molto complessa dal punto di vista anche teorico la critica che gli fanno per esempio Rasi Balestrine e Palozzi in un corsivo piuttosto feroce uscito sul manifesto nel 74 è che i poveri sono della Morante sono talmente poveri che neppure hanno il bene dell'intelletto sono agiti dalla storia che li sposta nel mondo e nella città ora questo è un aspetto piuttosto interessante qui c'è la grande critica di non vedere nessuna capacità di riscatto in un romanzo in qualche modo ammiccante a una visione anarchica e non progressiva appunto di una nella possibilità progressiva e legata a una possibilità di riscatto nessuna possibilità di leggere questa capacità di mobilità come una capacità di agency di agire in realtà appunto e come ultimissima cosa e con questo chiudo anche se appunto lo dico in modo molto sintetico è proprio legata a Roma dunque la questione forse una delle ragioni dell'incapacità di vedere questa mobilità come azione come agency anche come scelta di questi poveri talmente poveri che non hanno neanche il bene dell'intelletto è proprio legata forse a Roma che nella sua diciamo in questo fardello che si porta dietro di città eterna spesso è relegata a un'interpretazione di immobilità che si fatica a scalfire come è stato detto tante volte durante la giornata ma in questo caso negli anni della guerra anche a una rappresentazione di una romanità come possiamo particolarmente in questi anni quasi atalica diciamo come possiamo dire ontologica pensiamo all'Anna Magnani no al corpo che prende la voce il modo di parlare di Anna Magnani e come se e tutto questo in realtà del tutto in fondo oscurato le pratiche le cose che dicevano i miei colleghi prima di me il vero volto che è quello invece di un laboratorio anche identitario tutto forché immobile in continua trasformazione grazie scusate grazie mille Alessandra Gissi devo dire di questa interessante relazione io vorrei riprendere questa definizione Roma come città di chi la attraversa che devo dire mi ha colpito insomma in modo particolare e che richiama anche il titolo dell'intervento di Alessandro Portelli che è tutte le strade portano alle arviatine Alessandro Portelli che non ha bisogno di presentazione ma insomma come mi fa piacere ricordare insomma sia come fondatore uno dei fondatori della storia orale che come presidente del circolo Gianni Bosio ma anche per un suo recente lavoro dedicato agli Stati Uniti Sandro Portelli è stato insegnante di lingua e letteratura anglo-americana alla Sapienza e ha da poco pubblicato con Donzelli Il ginocchio sul collo l'America il razzismo la violenza trapassato storia e immagini l'intervento di oggi appunto tutte le strade portano alle arviatine ci ricorda insomma l'altro suo importantissimo fondamentale lavoro che all'ordine è già stato eseguito Roma le fosse arviatine e la memoria con cui ha avuto il premio di Viareggio nel 99 grazie Alessandro Portelli a te la parola devi mettere il volume guarda qui in basso eccomi eccomi grazie buonasera grazie a tutti a tutti all'IRSIFAR in particolare tra l'altro la cosa di cui parlo nasce a un'epoca in cui ero nel direttivo dell'IRSIFAR e quindi ha un po' a che fare con tutta questa vicenda diciamo questo che io avevo fatto un libro sulla storia orale di Terni e mi era venuta un'idea un po' folle mi piacerebbe di fare un libro sulla storia orale di Roma poi ci penso dico Terni a 100.000 abitanti Roma ne aveva quasi 3 milioni la storia di Terni è un po' a poco più a 100 anni aveva 100 anni Roma ne è un po' più come faccio non è pensabile poi mi capitò di incontrare Mario Fiorentini che ha ancora meno di me bisogno di presentazioni naturalmente uno dei protagonisti della storia di Roma della resistenza dei gap eccetera e fu in qualche modo l'incontro con Mario a darmi la sensazione che in realtà appunto si poteva raccontare la storia di Roma almeno la storia di Roma nell'ultimo secolo giù di lì tirando le fila di un unico evento di una vicenda durata in sé pochi giorni ma che le assumeva un po' tutta ed era quella delle fosse ardiatine la cosa che mi è parsa significativa rispetto ai temi di oggi è che in qualche modo questo discorso di Roma come come un luogo nel quale viene a convergere l'intero paese e quindi delle fosse ardiatine come l'unico vero monumento nazionale di cui disponiamo beh è emersa fin dai primi momenti per esempio Mario fin dalla prima intervista lui mi dice mia madre era di una famiglia consalina poverissima abruzzese un paesino bellissimo città ducale con una pianta architettonica magnifica ha conosciuto mio padre si sono sposati e sono venuti a Roma ecco la composizione delle persone che finiscono le fosse ardiatine e delle persone che sono attive nella resistenza in quegli anni ha a che fare non tanto con una Roma tradizionale arcaica ma con Roma capitale con Roma in cui converge l'intero paese ricordiamoci che Antonio Insolera raccontava che nell'arco di poco più di 30 anni dopo il trasferimento della capitale in città Roma passa da 240 a 400 mila abitanti quasi al 90% per via di immigrazione da una parte a Roma si trasferisce l'appalato del governo centrale si trasferiscono i militari Luca Cordero di Montezemolo il generale Giuseppe Cordero di Montezemolo si trasferiscono tutto quel mondo che ruota attorno all'appalato statuale cioè professionisti medici Luigi Pierantoni avvocati Baglivo si trasferiscono insegnanti Pilo Albertelli che era di Parma Canalis che veniva dalla Sardegna e soprattutto nel periodo del grande brume edilizio della città si trasferiscono a Roma vengono a Roma operai contadini da tutta l'Italia centrale e meridionale vorrei ricordare il racconto di Ada Pignotti Ada Pignotti aveva 24 anni quando lo uccisero il marito alle Fosse Ardiatine una delle più eloquenti intelligenti narratrici della vicenda delle Fosse Ardiatine sia della vicenda delle persone uccise nel Fosse Ardiatine sia di quella delle persone che sono sopravvissute e Ada Pignotti diceva noi il paese nostro si chiama Oricola lo conosce vicino a Vezano in Abruzzo papà era un poveraccio era un contadino quello che raccoglievano facevano due parti a chi lavorava una al contadino e una al padrone diciamo però quando è all'ultimo il padrone si pigliava tutto perché magari non si riusciva a fine anno allora gli dava quello di cui un contadino aveva bisogno però poi doveva ridargli e lo raddoppiato che è un meccanismo che conosciamo bene noi purtroppo siamo vissuti così allora non c'era altro dove si andava o dovevi emigrare come fanno adesso questi che alle volte diciamo ecco li vengono tutti qua però i nostri che hanno fatto hanno emigrato lo stesso in America in tutti i paesi stranieri e viene in mente per esempio che Aldo Fantini che è il figlio di una delle persone uccise non le Aldiatine ma a Forte Bravetta era emigrato negli Stati Uniti ed era tra le persone che frequentavano gli ambienti di Sacro e Vanzitti prima di tornare in Italia quindi diciamo c'è questa dimensione come se tutte le strade tutti i percorsi tutta la storia di vita e tutta la storia della città tutti i quartieri confluiscono confluiscono dentro Roma e dentro le fosse Aldiatine io di queste mi sono reso conto andando in giro per l'Italia a parlarne e vai ad Alessano al capo di Leuca e appunto ti raccontano di Ugo Baglivo avvocato local di Laggiù che è ucciso poi vai a Trieste dal capo estremo del paese e senti parlare di Haipel o di Paolo Petrucci Chiestini uccisi alle Aldiatine Luigi Pierantone di cui parlavo prima era di Novara ci sono Ermino Lungaro era di Trapani l'Italia intera viene a Roma in questo modo ci sono 14 pugliesi 7 marchigiani 9 sardi i campani gli abruzzesi inutili starli a contare e vengono appunto a coprire l'intero arco sociale della città e i nuovi quartieri che vengono nel caso appunto non contiamo tra le vittime delle Aldiatine molte persone di Torpignattara di Certosa di Centocelle o di Val Melaina e naturalmente Valle Aurelia e altri quartieri operai e proletari della città quartieri che hanno anche resistito al fascismo d'altra parte sono connessi anche alla vicenda dell'immigrazione il gruppo dei partigiani dei gappisti che hanno agito a Via Rasella abbiamo detto o che hanno preparato quell'azione abbiamo detto di Mario Fiorentini di famiglia abruzzese Carla Capponi la famiglia era marchigiana Rosario Bentivegna da sempre lo sappiamo era di origine siciliana Correri era sardo Correri era sardo cioè la la città che si scontra nella resistenza nella resistenza armata nella resistenza disarmata che si scontra con l'operazione di di sé è una città appunto che proprio perché è diventata la capitale e perché ha avuto quel tipo di espansione ha attirato come appunto scrive in solera da un lato l'apparato del governo dall'altro lui scrive la gente che la campagna respingeva sia perché effettivamente Roma chiamava sia perché c'era speranza di una possibilità di vita migliore emigrando in città e questo dunque fa della vicenda delle Ardettine non solo una specie di concentrato di quello che si veniva raccontando quello che raccontava appunto anche la Morante nella storia accentuato in tempo di guerra dal fatto che appunto a Roma si rifugiano anche persone che cercano di evitare il reclutamento nazifascista per esempio Ciavarella di Milano che era a Roma proprio per evitare e che ha rifiutato di arruolarsi di rispondere alla chiamata della alla chiamata del reclutamento della Repubblica Italiana questo è un primo elemento importante cioè quello per cui attraverso le forze Ardettine la memoria di Roma l'identità di Roma si si espande si allargha su tutto il territorio nazionale è questa una delle ragioni una vicenda che fa di Roma di Roma moderna di Roma contemporanea la capitale d'Italia e quindi che genera nel monumento delle forze Ardettine il vero e proprio monumento all'unità nazionale dell'Italia come democrazia c'è un secondo elemento che secondo me vale la pena di osservare ed è Roma oggi non è la stessa Roma del 1943-44 non è la stessa Roma nel 1950-60 anche perché appunto quel tentativo fascista di impedire l'urbanizzazione di impedire che proseguisse un'immigrazione verso la città salta poi definitivamente con gli anni 60 e quindi dagli anni 60 in poi cambia proprio la composizione demografica della città e poi c'è tutta la nuova immigrazione degli ultimi 35-40 anni che memoria c'è in queste nuove in questo doppio strato di nuovi romani nel fare il lavoro della ricerca su campo delle interviste sulla memoria delle vostre ardeatine era molto chiaro che c'erano due livelli di memoria un livello di memoria che era quello diciamo all'interno della cerchia delle mura e nelle periferie storiche appunto Centocelle Monze Sacro e Dintorni Torpignattara e il centro storico cioè la memoria di quegli spazi di Roma e delle persone che li abitavano che in qualche modo hanno avuto l'esperienza diretta o la memoria familiare di questa vicenda è caratteristico il fatto che appunto metà della gente a cui domandavi che cose ne sapevano delle fosse ardeatine o via rasella sostenevano che o loro o un parente stretto era presente a via rasella nel momento dell'azione partigiana naturalmente non è vero ma quello che significa è che c'è una memoria di prossimità c'è una memoria di prossimità che deriva appunto dal fatto che o eri presente in città quando è successo oppure hai una memoria di vicinato una memoria familiare ricordo una mia studentessa che diceva io soltutto di Luigi Pierantoni perché era compagno di scuola di mio padre e quindi mio padre mi ha raccontato tutto questa modalità di narrazione di memoria per contiguità quando poi andavi a cercare che cosa ne sapevano mettiamo a Torbella Monica lì era una memoria che era passata soprattutto per la scuola quando c'era passata e quindi o per altri tipi di canali di seconda terza quarta quinta mano e quindi era un tipo di memoria molto spesso ancora più falso neanche falso ma ancora più lontano più disperso della memoria che raccoglievi nel centro della città e soprattutto un tipo di memoria con un coinvolgimento emotivo sentimentale emozionale molto più molto più controllabile e poi c'è la nuova ondata di migrazione la nuova ondata di migrazione delle fosse addettine non ha nessuna memoria e ricordo per esempio di essere andato con i compagni dell'Ampi a parlare il 25 aprile in una di queste scuole del centro di Roma a Piazza Vittorio in cui la presenza di bambini di nuova generazione o di prima generazione italiana era molto forte e della difficoltà di raccontarli di parlargli delle fosse ardentine della resistenza dell'antifascismo come come una storia di cui avevano fatto parte in qualche misura la difficoltà di radicare nell'identità romana tutte queste ondate di migrazione si misura proprio sulla diversa modalità di conoscenza e rapporto con questo evento simbolico a tempo stesso vorrei aggiungere che le vie della memoria dei contatti e delle conoscenze sono infinite per cui la mia ex studentessa che era stata il cui padre era stato compagna di scuola di Pier Antoni era una ragazza di padre italiano madre etiope e quindi che in qualche misura partecipava sia a questa memoria di contiguità sia a un'acquisizione di memoria attraverso altri canali per un'altra storia di arrivo alla città ecco a me sembra appunto questo che se noi pensiamo alla vicenda delle fosse erdiatine come una vicenda nazionale come una vicenda unitaria un luogo in cui ci sono tutte le generazioni dai 14 ai 75 anni ci sono tutte le fasce sociali dai venditori ambulanti agli aristocratici piemontesi ci sono tutte le religioni ci sono gli ebrei ci sono i cattolici ci sono i non credenti in cui ci sono tutti i quartieri eccetera soprattutto in cui ci sono tutte le parti tutte le regioni del paese e in questo senso riusciamo a renderci conto che se è vero che l'emigrazione è un processo di frammentazione dell'identità locale che deve improvvisamente riconoscersi come molteplice come variegata non più come omogenea e compatta contemporaneamente è invece un processo di condivisione di estensione di questa nuova identità molteplice a un livello molto più vasto di quello della cerchia delle mura aureliane o anche del raccordo anulare e grazie moltissimo di questa occasione grazie mille Alessandro Portelli veramente per questo intervento e per queste considerazioni che appunto ci hanno fatto vedere da un lato come bisogna rispettare il concetto appunto di locale e di nazionale e internazionale quindi mai come diciamo l'approccio poi che lui ha usato questo vedere le fosse ardiatine può poi allargare lo sguardo alle tre dimensioni quindi e anche l'altra cosa che mi aveva colpito insomma una delle ultime che hai detto questo di questa memoria che bene o male poi viene portata avanti anche dalla ragazza che poi ha la mamma di un'altra nazionalità e quindi la memoria di Roma poi di fatto è una memoria molto più larga di quello che noi possiamo immaginare non so se dalla chat c'è qualcosa eccolo Santina della Furia che dice appunto bravissima Alessandra la storia è un romanzo gigantesco e doloroso ne hai dato un'idea forte ci sono luoghi che dovrebbero essere segnalati nella topografia romana per il loro ruolo del romanzo uno è lo scalo di San Lorenzo con gli ebreggio a chiusi nei vagoni che sussurrano a Ida i loro messaggi ecco devo dire che insomma sono assolutamente d'accordo con questo intervento e che effettivamente sarebbe interessante vedere i luoghi no? poi di Roma che sono anche dentro dentro il romanzo come vengono fuori e come e come poi la storia proprio della città viene viene alla luce e sembra quasi di muovercesi dentro no? di camminare all'interno con i protagonisti non so se c'è altro ecco vedo Michele Colucci salve dunque mi sembra che domande specifiche non ne sono venute fuori allora se tu non hai domande per ora Anna io vorrei diciamo farne una a Sandro e una e una ad Alessandra se è possibile certo e volevo chiedere a Sandro una riflessione anche su le tappe più recenti di questa memoria perché la stratificazione migratoria che lui ha raccontato in modo così affascinante è una stratificazione che lui ha ricostruito in interviste fatte credo negli anni 90 negli anni che hanno preceduto insomma l'uscita l'uscita del volume volevo chiedere a Sandro se ha avuto percezione se ha avuto testimonianza se ha avuto modo di invece considerare un cambio anche di prospettiva di empatia rispetto a ciò che è avvenuto invece negli ultimi anni ormai da quel periodo sono passati non è passato tanto tempo sono passati quasi 25 anni insomma dalla metà degli anni 90 ma anche per capire un po' come secondo lui quest'idea della prossimità che è una delle parole chiave diciamo è uno dei concetti fondamentali su cui si sta muovendo un po' questo nostro progetto di ricerca su Roma si può poi realmente sostanziare il lavoro che abbiamo cercato di fare con questo convegno e che cercheremo di fare anche nelle prossime tappe di questo percorso è quello di togliere dall'immaginario sulle migrazioni quel sapore di esotismo di alterità di diversità estrema che spesso si associa alla figura del migrante della persona che si muove nello spazio della persona che compie anche un'esperienza migratoria per arrivare invece a una consapevolezza di quanto invece i percorsi migratori sono vicini vicinissimi a noi anche quando quando meno ce lo possiamo aspettare nelle nostre biografie nelle nostre esperienze familiari o nelle reti più vicine insomma anche alle persone ecco quest'idea su come è cambiato il percorso anche di avvicinamento a questa prossimità nei tempi più vicini a noi rispetto anche a quando Sandro ha scritto il libro sulle cosse erdetine ad Alessandra invece volevo chiedere diciamo una testimonianza rispetto a ciò che lei pensa rispetto alla narrazione su Roma su questa Roma così frenetica così in movimento che racconta nel romanzo la morante che lei ha descritto in maniera così puntuale televengono dei riferimenti per quanto riguarda narrazioni anche letterarie in altre città diciamo per per allargare anche un po' lo sguardo a questa variabile della mobilità anche al di fuori del contesto di Roma perché un po' l'obiettivo che mi sembra stiamo raggiungendo in questa giornata da un lato è quello di legare la storia delle migrazioni alla storia di Roma contemporanea quindi ricomporre questi due orizzonti che sono stati per molto tempo un po' separati un po' rimossi e dall'altro lato anche quello di inserire la storia di Roma contemporanea nella storia diciamo dell'Italia contemporanea quindi magari anche aggiungendo interazioni legami rapporti con quello che succede in altre città che magari sono state anche maggiormente già studiate dal punto di vista delle mobilità e delle migrazioni grazie prima io? si guarda le interviste sono in realtà 97 98 99 quindi già su fine degli anni 90 però da quello che sono diciamo più sensazioni che non risultati di ricerca approfondita a me sempre la cosa che mi pare non è tanto che diciamo la storia di Roma antifascista della resistenza delle ardiatine sia diventata storia familiare anche per quelli per i quali non lo era prima questo non mi sembra che sia accaduto direi che c'è stato un po' più di attenzione a livello scolastico e un po' più di presenza per esempio dell'Ampi anche nelle anche nelle periferie romane e quindi un po' più di conoscenza probabilmente sì un po' meno di familiarità su quegli eventi un po' meno non non molta maggiore familiarità o memoria ravvicinata su quegli eventi quello che mi pare molto importante è che però la memoria della città che però stanno dentro la memoria della città tutti quanti quelli che nella città ci sono da da una o due generazioni qua voglio dire la memoria per dire di centocelle è per un sacco per molte persone la memoria delle occupazioni delle scuole fatte a cavallo degli anni 90 e 2000 fatte da ragazzi che magari sono figli di immigrati di immigrati dall'Italia centrale o altro o anche di immigrati nati all'estero la memoria di che cosa è Roma la memoria di che cosa è Roma contiene il Baobab in questo momento e quindi più che pensare forse a meno da quello che colgo io a una riappropriazione diretta della della memoria dell'epoca della guerra dell'antifascismo direi che c'è una costruzione di memoria in atto a cui partecipano tutti a cui partecipano appunto i figli e i nipoti degli immigrati abruzzesi che ormai sono da due generazioni che sono romani e a cui partecipano sicuramente gli immigrati che vengono dalla Romania mi viene in mente che una delle più straordinarie voci della canzone romanesca tradizionale è Roxana Ene nata in Romania arrivata in Italia a nove anni vive a Catelino ed è più romana di me e canta le canzoni di Romolo Bazzani in qualche modo c'è un'appropriazione dell'identità romana non tanto attraverso ritrovarsi testimoni o figli o nipoti dei testimoni degli anni 30-40 quanto essere protagonisti della memoria e formazione della storia in atto ma dunque erano forse due domande la prima è diciamo Roma così in qualche modo come dicevi frenetica ecco io penso che questa questione degli attraversamenti sia molto importante perché proprio in questa ottica di relazione fra diciamo gli eventi macro della storia quindi i bombardamenti la guerra e poi gli effettivi spostamenti secondo me è una dialettica molto interessante e appunto sottolineo dialettica ecco perché invece è lì che è mancato lo sguardo o meglio c'è stato uno sguardo appunto molto specifico ci sono molte cose ci sono cose che non ho detto tra l'altro una delle cose secondo me interessanti sono gli anni a proposito di storia d'Italia diciamo questo gigantesco dibattito che segue la pubblicazione del romanzo che avviene fra il 74 e il 75 e avviene in pratica in un momento di passaggio enorme siamo all'indomani l'anno successivo all'inversione del saldo migratorio la crisi la crisi mondiale il rientro dei molti di molti migranti sparsi per il mondo espulsi dal mercato dal mercato del lavoro soprattutto della grande industria in crisi e soprattutto quando l'Italia ha passato un ventennio di migrazioni interne molto intense sulle quali evidentemente fa anche grande fatica a riflettere cioè tutto il dibattito che è un dibattito molto teorico anche su lotta di classe assenza della lotta di classe secondo me è molto interessante se pensiamo che è il 74 75 in cui la questione delle migrazioni è in realtà molto evidente molto presente per cui in realtà i collegamenti da fare potrebbero essere morti altre narrazioni io non sono una grande esperta non voglio spacciarmi per esperta di letteratura soprattutto sugli anni della guerra cosa che non sono in realtà non credo neanche che ci sia questa produzione sulle città così smisurata sulle città in guerra che forse è anche una cosa interessante perché il fatto che Roma sia in questo forse un po' in controtendenza può anche venire da quella anomalia non piccola che abbiamo più volte sottolineato cioè il fatto che sia un arrivo che sia arrivo e non e non partenza durante gli anni della guerra perché di solito più o meno il romanzo in quella fase è un romanzo di montagna quando è sulla resistenza insomma non so quanto sia effettivamente un romanzo cittadino si aprirebbe un discorso sul Napoli che è lungo Napoli milionaria insomma anche anche la difficoltà in parte colmata anche narrativa colmata dai libri di Gabriella Gribaudi rispetto a questo e forse volevo anche dire un'altra cosa ma sono dimenticata non so altrimenti a me piace molto pensare a come costruire la memoria di prossimità come diceva nella relazione Sandro Portelli e ripresa da Michele è difficile ma io credo fondamentale posso aggiungere una cosa che appunto io ho parlato di come le persone che sono arrivate a Roma hanno o non hanno o in che misura hanno assimilato la memoria della città secondo me dovremmo fare anche un discorso inverso cioè in che misura la città assimila la memoria di chi ci è arrivato in tempi diversi voglio dire nel fare interviste a Centocelle io penso per esempio a certi racconti sugli scioperi dei minatori delle marche che sono fondamentali per la memoria di gente che abita a Torta e Teste e quindi in qualche modo pensare che la memoria delle persone che sono arrivate a Roma più tardi fa oggi parte della memoria della città pensiamo a che cosa ha voluto dire per esempio per una parte non trascurabile di Roma la erezione del monumento a Graziani ad affile non è che siamo completamente resi comunque che la memoria della guerra d'Etiopia a Roma non era più solo la memoria coloniale ma era la memoria degli etiopi che fanno parte della città in questo momento e che sono portatori di un'altra storia in cui siamo coinvoluti penso a che la comunità del Bangladesh celebra la giornata mondiale delle lingue native perché il Bangladesh nasce sulla questione della lingua e quindi di come immette nell'identità e nella memoria della città di Roma la questione della lingua la questione è il diritto alla lingua in questo senso credo che se noi ci riuscissimo a pensare che la memoria di Roma oggi è la memoria delle fosse artiatine figuriamoci che sono io al mino della centralità ma è la memoria di la memoria che portano con sé bengalesi senegalesi rumeni che oggi sono cittadini romani in questo senso diventa estremamente più difficile pensare a una memoria una memoria unificata della città bisogna sempre più lavorare su un'idea di di memoria di memorie della città di memorie molteplici e essere in grado di fare in modo che si conoscano fra loro e che questo sia uno dei compiti che ci spettano in quanto operatori della memoria storica quindi abbiamo una testimonianza con Fiorella Leone che dice vorrei riferire l'esperienza recente di una passeggiata per Monti con il gruppo Guida Invisibili ragazzi e ragazze meravigliosi che ci hanno fatto vedere Roma con i loro occhi bel raccordo secondo me tra la nostra e la loro memoria quindi insomma ci arriva un po' di speranza bene io non so se dovete volete aggiungere altro mi sembra che possiamo andare verso la conclusione non so se Alessandra mi sono ricordata mi sono ricordata però forse era stata una buona idea dimenticarsene perché apre un discorso enorme perché uno delle invece delle questioni che diciamo ci aiuterebbe è a proposito di altri libri e anche mondo operaio mito operaio di Gribao di Suttorino di Gribao di Maurizio in questo caso che non ha niente a che vedere con il periodo di cui parla la storia ma secondo me anche lì la leva interpretativa della mobilità in qualche modo diciamo è un prisma su situazioni che appaiono omogenee monolitiche fortemente identitarie poi invece il prisma non più di punto di vista proprio il prisma della mobilità consente di in qualche modo di vedere di più di scomporre questa omogeneità ecco io se proprio dovessi dire un'ultima cosa mi sembra che se c'è un grandissimo merito a tutto questo è che per fortuna è una boccata d'aria rispetto a un'estrema semplificazione delle questioni dei come possiamo dire di quello che vediamo sempre tutto molto tagliato per grandi per grandi linee mentre invece la scomposizione è un'analisi accorta quella proprio è una cosa che penso dobbiamo davvero mai mai smettere nonostante siamo chiusi in casa allora grazie io Anna tu devi aggiungere qualcosa no voglio solo ringraziare te tutti gli organizzatori Alessandra Agissi e Alessandro Portelli per i loro bellissimi interventi insomma è stata una bella occasione di insomma di riflessione comune come si è visto anche poi dalle testimonianze che ci sono arrivate grazie grazie a voi allora grazie veramente anche per questa ultima sessione il convegno volge al termine mi sembra che gli stipoli e le premesse anche per andare avanti in questo percorso non mancano questo è un messaggio rivolto al futuro al futuro di questa città e anche al futuro di questa prospettiva di riscoprire riprendere in mano rileggere e raccontare nuovamente questo enorme patrimonio di esperienze storiche legato alle migrazioni nella capitale nell'area metropolitana in periodi storici così diversi ecco questo anche dobbiamo dobbiamo tenere presente che parliamo di storie che prendono vita prendono corpo in contesti molto molto diversi tra loro e per questo ricordo le prossime tappe di questo progetto che si chiama 150 anni di immigrazioni a Roma capitale storia memoria territori un progetto nato dalla collaborazione fra il cnr istituto di studi sul mediterraneo e biblioteche di Roma che vedrà nei prossimi mesi una serie di approfondimenti e di appuntamenti sia live sia in presenza quando sarà possibile dal vivo sia in digitale rispetto alla declinazione di questa storia che abbiamo raccontato oggi sui singoli territori con il coinvolgimento della rete delle biblioteche comunali che stanno seguendo questa iniziativa in tutti i quartieri della città quindi vediamo appuntamente i prossimi mesi seguite diciamo gli eventi che saranno successivi a questo convegno la registrazione di questo convegno sarà visibile su tutte le piattaforme su cui oggi è stato trasmesso e anche sui vari siti web romacentocinquantainmigrazioni.it sul sito web di biblioteche di Roma sul sito web del cnr ismed dove tra l'altro è possibile attraverso i comandi in basso seguire l'attività con l'iscrizione ai vari canali social vi ricordo che oltre agli appuntamenti territoriali abbiamo in programmazione un secondo convegno che pensiamo di realizzare a giugno che riprenda in mano tutte queste questioni ma che affunti il periodo storico dal 1945 ai nostri giorni ringraziamo le tante realtà che si sono collegate e che hanno ritrasmesso questa diretta le tantissime persone che l'hanno vista e ascoltata le tante relazioni della giornata tra le varie realtà prima avevo dimenticato di citare l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano l'archivio diuristico nazionale con cui come CNR Ismet e del Bibliere di Roma abbiamo già avviato nella scorsa primavera un ciclo di iniziative legate a diari multimediali migranti un'iniziativa importante su cui torneremo sicuramente nei prossimi mesi e non mi resta che darvi appuntamento alle prossime tappe un caro saluto a tutte e a tutti grazie grazie a tutti